I brami che abbiamo cantato, i brami che qui ci siamo eseguiti al Festival dei Castelli Romani e quindi stiamo registrando quei due brami perché le persone live ci sono piaciute molto e poi insomma abbiamo visto anche sulle nostre pagine, Facebook, pagine Twitter che comunque i brami sono piaciuti proprio per le persone cantate e suonate proprio nel Festival dei Castelli Romani e volevo ringraziare anche proprio Francesca Cedroni, dell'Aquora Narendzi e tutti gli organizzatori e Gladio che conosco questo ambiente di più e sono dell'ambiente di Antonella Merito che mi stanno facendo questa bellissima anche Grazie, grazie, grazie Simone Allora quindi insomma c'è comunque tutto da seguire il vostro progetto musicale, il progetto musicale di Meta Viola Grazie a tutti